Trovo al social party! Il brother è felicissimo, non vedeva loro Dai su, su! Ci vediamo all'Odi fermata da Metro al social party Brazo! Brazo! Ma stai riprendendo? Allora Vai brother! Aaaaaaah Questo è per domande Mi viene l'ansia Non riescono a fare A me serve uno di quei coglioni No... No... Grazie.